Sono Lorenzo Marangoni, 56 anni, separato due figlie. Ho un bellissimo progetto che vi invito a guardare nel mio blog che si chiama veneziaaccessibile.wordpress.com dove c'è spiegato tutto. In cosa consiste questo progetto? Consiste in una idea di una semplicità spietata che era già stata applicata dal comune al ponte della Paia e al ponte delle Guglie. C'è un'azienda, adesso non dico il nome per non fare pubblicità, che comunque ho già interpellato e avevano fatto uno studio naturalmente comunicato al comune che io mi sono interessato e ho chiesto all'ufficio abbattimento barriere architettoniche di Venezia che non mi danno. Però io ho sentito la ditta, così, perché è il mio scopo di risolvere questa situazione e loro mi hanno detto che almeno tutta Venezia è un'utopia, però almeno il 90% su 400 ponti si può risolvere con questa soluzione. Con 4 milioni di euro, che ne sono stati spesi solamente due per fare questa ovovia che non funziona, con 4 milioni di euro non dico farli tutti subito, ma fare una programmazione per incominciare almeno.